Storico anche corrispondente da Berlino, che a Berlino, Piero possiamo dire una cosa, proprio per metterci comodi comodi, tu non eri proprio entusiasta quando ti trasferirono a Berlino, non hai fatto i salti di gioia? No, non so come lo sai però è la verità. Eh ma bisogna studiare e prepararsi per bene per queste cose. Ma no, diciamo che io ero a Bruxelles e nella fase in cui la comunità europea, l'Unione Europea, era nella fase di grande speranza, c'era stato l'allargamento, la nuova convenzione, l'euro, quindi era la speranza che finalmente l'Europa diventasse Europa con la I maiuscola e quindi mi dispiaceva andare. Però devo anche dire che piano piano Berlino mi ha intrigato, mi ha affascinato. Sei impazzito per Berlino al punto tale poi da scriverci un libro due anni fa, tutti pazzi per Berlino. A cominciare da me innanzitutto ovviamente. Piero, tu non eri quel giorno, il 9 novembre 89, quando cade, crolla, cade finalmente il muro di Berlino, però hai vissuto il dopo. Sì. Quando sei arrivato a Berlino che cosa ti raccontarono di quel giorno? Quali erano i ricordi delle persone? Beh, erano buffo perché c'era in qualche modo una sorta di osmosi. Tutti coloro che a ovest in qualche modo avevano sostenuto, avevano creduto nell'unificazione, si erano spostati ad est. E quelli che si erano illusi di trovare il benessere dall'altra parte, da est, si erano spostati a ovest. E quindi nel momento in cui sono andato a cercare casa, l'ho cercata dalla parte ovest e anche dalla parte est, mi sono reso conto di questa caratteristica della città, che è un po' poi il suo fascino, la sua contraddizione. Nella zona che è subito dietro la porta di Brandeburgo, nella zona est, dopo Unter den Linden, questo meraviglioso Diario dei Tigli, dietro il Duomo c'è tutta la parte est che oggi è in mano ai giovani. Non c'è niente da fare. E non dimentichiamo anche che l'età media degli abitanti di Berlino è di 35 anni. I berlinesi, come associano all'idea del muro, ovviamente la vergogna, come siamo abituati a pensare noi, non ne volevano parlare, è qualcosa che si vogliono lasciare alle spalle. Ecco, questa è un'altra caratteristica della città che mi ha colpito in senso positivo. Cioè non nascondono il loro passato, non si vergognano di quello che è successo, anzi in qualche modo lo vogliono mostrare. Per esempio quello che è stato il palazzo della Stasi, di questa terribile polizia segreta dell'Est, sta lì e non viene abbattuto. Come a dire, questa è la nostra storia. La storia è che sono stati i nostri errori, così come tra la porta di Brandeburgo e Posdamer Platz c'è questo immane memoriale dedicato a un'altra delle vergogne, del nazismo, i lager. Ecco, tutto questo per dire ai giovani di Berlino, ai giovani tedeschi e non solo ai giovani tedeschi, ecco attenzione non ripetiamo questi errori. La memoria storica nel bene e nel male va salvaguardata proprio per evitare che magari nasca un nuovo Hitler, un nuovo Mussolini. Che si ripetano certe storie. Noi raccontiamo la Berlino di oggi con uno sguardo a quel muro, ma siamo andati a pescare un italiano che quel giorno c'era. È un cittadino straordinario. Guardate la storia. Ci racconta tutto lui. 25 anni fa, forse più o meno a quest'ora, mi trovavo a casa di amici a Berlino, quando a loro arrivò una telefonata che li informava su quello che stava succedendo al muro. E ho preso la macchina fotografica e sono andato subito a sequenciarli dove mi sono imbattuto in quella marea di gente. C'era innanzitutto la gioia di quelli dell'est che venivano a ovest. Ma c'era anche della tristezza, c'erano dei pianti perché c'era gente che aveva dei cartelli in mano con su scritto un nome e probabilmente cercava dei familiari o dei cari che erano rimasti a est. Comunque dopo aver abbracciato qualche tedesco dell'est perché lì si abbracciavano tutti, mi sono spostato verso la porta di Brandeburgo dove ho visto gente che era in piedi sul muro. C'era una scala, una scala appoggiata al muro dove scendeva la gente che aveva fatto la passeggiatina sopra. E io ho cercato di guadagnare quella cala per poter salire anch'io. Finché arriva una persona e mi chiede se volevo salire. E io ho detto certo che voglio salire, ma guarda che per questo è solo per scendere, quella per salire è quella laggiù. Per cui in una cosa che emotivamente non poteva coinvolgergli più di quell'evento, neanche la vittoria ai mondiali di calcio, i tedeschi si erano organizzati. E filava tutto liscio. Quando succede qualcosa di totalmente inaspettato è anche difficile descriverlo in un certo senso. Si vive e basta. In questa scatola ci sono un po' di aperti. Primo fra tutti il pezzo di muro che ho preso approfittando della picconata che qualcuno aveva dato. Questi sono i militari di frontiera che fino a pochi giorni prima sparavano a chi si avvicinava. Questi da padroni di una situazione sono quasi... non sanno cosa fare. Calciano nei sassi. Anche io che ero lì per caso, stavo facendo delle fotografie e mi sono trovato gente che mi abbracciava. Di lì a pochi giorni sono passi dei Chiorchi a Berlino che vendevano delle magliette con su scritto e qua da vai io ce l'ho. Io la maglietta non l'ho comprata ma ce l'ho comunque. Piero Badaloni è bellissimo questo concetto di vincitori e vinti. Chi ha vinto e chi ha perso con il muro di Berlino? Ma diciamo che ha perso la dittatura, ha vinto la democrazia, ha vinto la libertà, una libertà ritrovata, una libertà che è costata però ricordiamolo circa 200... non si sa dalla cifra esatta. Chi parla di 138, chi parla di 238 comunque diciamo di vittime ce ne sono state tante, soprattutto giovani perché sono stati loro, i giovani e gli anziani. Le famiglie erano spaccate a metà, si parlavano attraverso il muro, ma non a caso i primi che nel 61, subito dopo che è stato eretto il muro, cercarono di passare dall'altra parte furono 12 anziani. Il capo era una persona di 82 anni e riuscirono a scavare in 18 giorni, lavorando 8 ore al giorno, un tunnel che era alto 1,75 m, perché loro dicevano noi non ci vogliamo inchinare, vogliamo arrivare dritti alla libertà. E sono stati soprattutto i tunnel, la strada attraverso la quale i 5.000 e passa tedeschi dell'est che sono andati dall'altra parte prima che il muro crollasse, sono stati soprattutto i tunnel a consentire questo percorso. Però si sono inventati di tutto i tedeschi dell'est per passare dall'altra parte, persino le mucche di Troia. E cioè, voi ricordate il cavallo di Troia, no? Ecco, le mucche di Troia erano delle mucche di carta pesta, studiate per delle mostre itineranti che dovevano andare dall'una e dall'altra parte. E nel ventre di queste mucche? Nel ventre delle mucche c'entravano solo due persone e tre coppie sono riuscite a passare dall'altra parte. Purtroppo al quarto viaggio le guardie si sono, i Vopos se ne sono accorti. A una è andata male. Una ragazza che cercava di raggiungere il proprio fidanzato è andata male. E' andata davvero male. Questa è la Berlino di allora. Andiamo per un momento alla Berlino di oggi. Abbiamo scelto, proprio anche così, forti della tua suggestione, una città di giovani, un giovanissimo collega che è il direttore di questo magazine che si chiama Berlino, Cacio e Pepe. E' bellissimo. Già scelta che vi fa capire l'origine italiana. Naturalmente Andrea D'Addio, 32 anni, a Berlino dal 2009. Collega, buongiorno. Andrea, come si sta preparando Berlino a questo giubileo? Oggi inizieranno le celebrazioni, di fatto. Sarà allestita una grande linea di palloncini ad elio lungo 15 chilometri di quello che è il confine tra Berlino Est e Berlino Ovest. E per tre giorni si potranno vedere questi palloncini, si potrà passeggiare lungo questo confine, adesso solo terreno, solo a livello terra. E tra questi palloncini ci saranno ogni 800 metri delle stazioni in cui uno potrà leggere delle storie di persone che hanno attraversato il muro, potranno leggere ricordi di persone che in queste ultime settimane hanno voluto legare la propria memoria a quello che un tempo era la divisione della città e a una serie di altre celebrazioni che comunque termineranno alle 7 di sera di domenica e quando questi palloncini verranno liberati in cielo saranno 8 mila palloncini e si avrà la festa finale. Senti, Andrea, una curiosità, rispondimi per favore proprio con sincerità. Queste sono anche le manifestazioni ufficiali. Ma tra ragazzi, quando tu sei arrivato nel 2009, ricordo, se ne parlava, oggi se ne parla tra voi giovani o è comunque una pagina che adesso ha un po' stancato, nel senso che ok, è lì? Guardiamo oltre. Nel 2009 quando sono arrivato si stava prevalendo la celebrazione per il ventennale, quindi sono arrivato in un momento in cui pure c'era una grande ice riguardo al muro. Diciamo che secondo me se ne parla, almeno non sempre se ne parla tra italiani o stranieri, però è sempre curioso chiedere, quando si conosce un berlinese, che non è così frequente perché stranamente il centro della città si è popolato sempre più di stranieri o di tedeschi che non sono di Berlino, chiedere se fosse sia di Berlino Est o di Berlino Ovest. Perché bene o male anche se una persona intorno ai 30 anni è nata a Berlino Est, magari ha avuto un'educazione da genitori che sono cresciuti nella Germania dell'Est e nel momento in cui uno si deve impegnare a cercare di capire meglio perché una determinata persona pensa in quella maniera, un po' si fa condizionare dal fatto che l'educazione sia venuta da un'altra azione perché di fatto la Germania dell'Est è stata inglobata in quella dell'Ovest, non c'è stata un'unione tra le culture, ma c'è stato veramente un inglobamento tra le due, quindi è curioso. Oltretutto è uscito uno studio secondo cui un testo dei tedeschi sembra che siano ancora influenzati dal trauma della seconda guerra mondiale perché i psicologi tedeschi stanno cercando di capire quanto l'influenza della guerra e poi del muro si arriva da giorni d'ostri in termini di educazione sui figli e sui muti. Interessantissimo quello che stai raccontando. Andrea, senti, possiamo richiamarti poi lunedì e ci racconti com'è andata? Che qui è tutto un divenire. Allora, questo magazine, l'andatelo a vedere su internet, si dice qui fichissimo, Berlino Cacio e Pepe magazine, davvero straordinario. Grazie Andrea, da Dio. E' quegli italiani che si fanno onore. Piero, tu vuoi aggiungere qualcosa, ma subito dopo la pubblicità perché aspetta un secondo. Eh, te fai lo stesso mio mestiere e mi puoi capire. Perché noi ritorniamo e come dei gamberi indietro nel tempo, perché vi vogliamo portare nell'atmosfera di quelle ore, anche grazie a un'anticipazione molto ghiotta di qualcosa che vedremo domani sera. Abbiate pazienza. Un minuto di pubblicità. Abbiamo un giubileo straordinario, quello del 9 di novembre, 25 anni della caduta del muro di Berlino con Piero Badaloni e soprattutto Savero Simonelli che è arrivato adesso. Attenzione, ma noi a Berlino vogliamo riportarvi. Lo facciamo, per questo ringraziamo la rete, con un assaggio, un assaggio di uno speciale, un racconto per immagini che andrà in onda domani sera alle 20.35. Si chiama Oltre il muro. È una coproduzione anche con le reti tedesche, è il racconto per immagini, ma anche con le testimonianze di chi c'era in quel giorno. Guardate, è davvero un documento storico unico. Un assaggio, un minutino, tutto per noi adesso. Per i berlinesi le separazioni obbligatorie sono un terribile shock. Roswitha Brosius ha solo 16 anni ed è fidanzata con Klaus Keppen di Berlino Ovest. Per settimane lui l'ha implorata di raggiungerlo. Adesso è troppo tardi. Aveva sempre saputo cosa voleva. Voleva me e non intendeva rinunciarci. Mi disse, vieni di qua. E io lo avrei potuto fare facilmente in uno o due occasioni. Le fortificazioni diventano sempre più sofisticate. Le persone possono vedersi solo a distanza. Io non volevo. Lo avrei fatto se fossero venuti anche i miei genitori. e tutta la famiglia. Andiamo tutti o nessuno, ci eravamo detti. Era deprimente, ma nessuno sapeva come sarebbero andate le cose e che il muro sarebbe diventato così mastodontico. Klaus sta già pensando a un piano per far fuggire Roswitha. Sta aspettando il momento giusto, ma non sarà facile. Scopriremo tutti se Roswitha ce l'ha fatta o meno domani sera alle 20.35. Questo concetto di separazione, che è la prima grande ferita di questo muro, ritorna anche nelle parole e nelle letture di Vito De Torre stamattina. La stampa dice che in fondo le due anime sono rimaste così ancora. C'è una separazione economica. Tu condividi questo aspetto? È un'analisi che fanno gli economisti ed è un'analisi che poi si vede arrivando lì. Le due parti ancora hanno un gap, cioè come si dice adesso, c'è una differenza di livello economico ancora evidente. nonostante il cancelliere Helmut Kohl avesse per primo riversato un mare di marchi dall'altra parte per cercare di ridurre questo gap. Ma la cosa buffa e interessante, se vogliamo, i ricicli storici è che adesso a proseguire quello sforzo di unificazione anche economica dei livelli di vita delle due parti è una tedesca dell'Est. Angela Merkel è nata e vissuta, anche cresciuta politicamente, in una regione dell'Est. ed è buffo che lei stessa abbia ammesso che la notte della caduta del muro lei stava in una sauna, quindi non era impegnata in quel momento. Esatto, almeno in quel momento non c'era. Saverio Simonelli, stamattina siamo riusciti finalmente a portare in stampa l'occasione veramente ghiotta, Berlino in fuga dal muro. Vorrei far vedere la copertina perché già la copertina è divertente ed è un esperimento, un modo di raccontare quegli anni ai ragazzi, a più giovani. Ti sei inventato uno stratagemma. Sì, mi sono inventato uno stratagemma. Prima avete già parlato, tra l'altro, di una delle fughe di cui parlo nel libro che è la fuga degli anziani. Lo stratagemma è immaginare una persona che è parente proprio del capo di quel gruppo che vede i suoi nipoti giocare liberi, felici, contenti, insieme a bambini un po' multietnici come è la Germania di oggi. A un certo punto, mentre giocano a pallone, il pallone finisce al di là del muretto di recinzione del giardino in cui giocano. E allora uno dei bambini fa, ah ma ci vorrebbe quel parente di tuo nonno. E un altro fa, ma perché chi ha fatto il parente di tuo nonno? È quello che è passato al di là del muro. E da lì il nonno comincia a raccontare ai ragazzi le storie di chi ce l'ha fatta. E quante storie, Savero, tu riesci a raccontare. Sono una decina più o meno. E sono storie di persone dietro le quali c'è una grossa sofferenza. Cioè il traguardo viene raggiunto con lavoro, con passione, ma anche a un prezzo altissimo. Con lavoro, con passione e con grande immaginazione. Perché lo accennava prima Piero, sono degli strategemi strepitosi, fantastici, inventivi. Facci sognare, stamattina abbiamo parlato, abbiamo aperto con un popolo di italiani che non è più capace di sognare, pessimista. Ma noi attraverso queste storie il sogno lo possiamo riprendere. Io ti parlo di Harry Detterling, che era un macchinista, portava il treno. A un certo punto lui era un po' una testa calda, non andavano bene tutte queste imposizioni da parte del regime. Era un po' un sobillatore. E disse, vabbè, tu adesso andrai in un campo di rieducazione, lo chiamavano. Lui aveva quattro figli. Era un macchinista, conosceva bene tutti gli scambi e la situazione tra Berlino Est e Berlino Ovest. Cosa fa quest'uomo? Si studia bene tutti i percorsi, confisca un treno con otto vagoni. E con questo treno, invece di fermarsi alla stazione dove poi doveva il convoglio tornare indietro perché sennò si sarebbe passati all'Ovest, lui a tutta velocità sfonda la recinzione con tutto il treno dietro. Tutte queste storie raccontate in maniera così delicata, se mi permettete. Ecco, lo stiamo vedendo. L'abbiamo alle nostre spalle, esatto. Noi siamo amanti delle foto, tra l'altro. In Berlino fuga dal muro, oggi proprio nelle librerie. Apriamo una parentesi. Piero, a noi piace l'aria aperta. E quindi le nostre finestre devono essere sempre spalancate. Le spalanchiamo, Vito, per tornare a Roma, se non mi sbaglio? Per tornare a Roma, no, ma vorrei tornare un attimo a Torino, la stampa di Torino. A Torino ancora questa stampa! Perché nell'89 è stato un anno di grandissimi cambiamenti, ma a quegli anni, diciamo, noi assistevamo a un abirillo dopo l'altro che cadeva, un impero, un blocco, quello sovietico, che si sgretolava, ciao Sescu, tutte le repubbliche sovietiche, crolla l'Unione Sovietica, che era qualcosa di incredibile anche nel nostro paese. In Italia c'è la famosa svolta della Bolognina. 12 novembre dell'89, a chi l'occhetto annuncia che il Partito Comunista Tagliano non si chiamerà più così, ma sarà Partito Democratico della Sinistra. E oggi che cosa accade? Viene nella Bolognina, ricordate, la famosa svolta della Bolognina. E oggi, segno dei tempi che cambiano, alla Bolognina, la famosa sezione del PC dove viene annunciata la svolta, che cosa c'è? C'è un parrucchiere cinese. E qui smettiamo di sognare, guardate, veramente, però come dici tu... Però è il segno dei tempi che cambiano, perché l'unico colosso rimasto in piedi è la Cina. La Cina oggi è, come dire, il colosso che avanza da un punto di vista economico e ha colonizzato, passatemi il termine, la Bolognina, dove ci fu la famosa svolta dell'89. La Bolognina ormai è un comunismo capitalista. È un comunismo capitalista. È un adattamento a dei tempi molto ben diverso rispetto alle premesse di quel mondo. Poi quando vuoi riuscire, abbiamo diversi aggiornamenti sul maltempo. Non voglio interrompere. Mi fai tornare un attimo a Berlino, perché, Piero, una domanda ti vorrei fare. Un chilometro e mezzo quasi è ancora lì. Tu condividi con questa scelta, è giusto che resti? Torniamo al discorso iniziale, cioè all'importanza di mantenere in piedi la memoria, anche quando questa memoria è scomoda, quando pesa, come appunto i 43 chilometri che lungo la città, ma in realtà in tutto erano 175 chilometri del muro, hanno diviso, hanno spaccato la città. Mantenere un chilometro e mezzo è la cosa che colpisce, o che mi ha colpito quando sono andato a Berlino, è vedere come a mantenere, a manutenere questo muro. Manutenere, dici bene. E anche tutti i graffiti, compresa quella Trabant che spacca il muro, che è diventato un simbolo da un punto di vista così visivo, sono dei giovani tedeschi, quando si parlava prima dei giovani. E non dimentichiamo che il primo in assoluto a saltare dall'altra parte del muro fu un militare di 19 anni, anche quella è una fotografia che ha fatto la storia. L'abbiamo visto, fra l'altro, prima nelle immagini. Quindi è giusto che ci siamo. Ma poi non solo, Lucia, la zona più cruciale del muro, che era la Potsdamer Platz, perché era la terra di nessuno, devastata, fossati, cavalli di Frisia, le diavolerie più incredibili per avvisare almeno un movimento, adesso è la zona dove gli architetti di tutto il mondo hanno creato dei palazzi. Mi sono sbizzarriti. Proprio come se fosse voler proprio dar via dal fondo a tutta l'immaginazione. È una vita che ritorna dal niente, è una vita che anzi germoglia proprio lì. Vogliamo andare un momento a Berlino? Enrico, perché te sei grande, ci hai trovato anche questo? No, la bellissima webcam, o meglio, che ci restituisce un'immagine in tempo reale di quello che si vede 25 anni dopo, la porta di Brandeburgo. Io leggo che non sono un cultore della lingua tedesca, però Thor Unterdenlinde, quello che ci diceva appunto prima Piero Badaloni, Badaloni, temperatura di 5 gradi, abbastanza fresco, cielo sereno. Ecco la Berlino che si prepara a festeggiare, a celebrare questo giubileo. Dove hanno festeggiato il campionato del mondo. Ecco, perché il calciofilo che è in te, il Saverio, non ne coniziamo, perché voi dovete sapere che abbiamo delle dispute calcistiche, caro Piero, soprattutto quando potete immaginare, gioca Italia-Germania, potete immaginare. Lo dice a me che sono romanista, anche io Piero, anche io. Ecco, io sono napoletana, Piero, ti ho detto, ti ho detto, ci ho detto, Saverio. Scusate, ogni tanto non ci capita tanto di gioire, quindi quando lo possiamo fare lo facciamo. Saverio, un'altra chicca che possiamo vedere, leggere tra le pagine del tuo libro, un'altra storia. Sì, questo è anche molto particolare, perché c'era un cimitero a Pankov, che era uno dei distretti, insomma, di confine tra le due, insomma, Berlino Est e Berlino Ovest, e prima Piero ha parlato dei ragazzi che organizzavano i tunnel, perché c'era un'organizzazione, erano più che altro studenti universitari, all'inizio lo facevano in maniera assolutamente dilettantesca, e volevano costruire questi tunnel e li scavavano sottoterra. Uno di questi tunnel collegò, ecco abbiamo visto la chiesa in questa foto, il cimitero all'Ovest, e un gruppo di cinque poveri penitenti vestiti col cilindro, tutti in frac, come se avessero appena seppellito una persona, si recano qui una sera verso le 7, 7 e un quarto. Tutto un tratto si vede una mano che spunta, sembra un film dell'orrore, da una tomba vuota. E quello è il segnale, piano piano si avvicinano, scendono giù e da lì parte il tunnel che li porta dall'altra parte, mentre il poliziotto passava di fronte, senza accoggersi ovviamente di nulla, perché aspettano il momento in cui loro avevano dei turni di 15-20 minuti, passavano nello stesso punto, loro approfittano e passano di là. E era proprio una coppia separata, come dicevi tu, l'esempio prima di Roslita, che si ricollega. Io ho immaginato proprio di andargli dietro in questo tunnel, e immaginare anche le loro emozioni, il sudore, la fatica, il fango, tutto quello che poteva esserci. Ma anche al tempo stesso l'attesa, immaginiamo la trepidazione, Piero, di vedere una luce in fondo, andare dall'altra parte questo significava, vedere una vita diversa. Ma diciamo che io suggerisco ovviamente a tutti, ma in particolare ai giovani, di andare a Berlino, perché è una città che merita. E per raccogliere tutte queste testimonianze di cui abbiamo parlato finora, basta fare un salto al checkpoint Charlie, che era uno dei punti strategici di passaggio dall'una e dall'altra parte. Era il punto da cui partiva la guerra fredda, in senso un po' simbolico. E lì c'è un museo veramente incredibile che raccoglie tutte queste testimonianze. E anche quelle, ripeto e sottolineo, di quelli che ci sono morti in questo tentativo. Poi un ragazzo riuscì a scappare, un fotografo, siccome era il giorno dell'anniversario della creazione della Germania Est, portò lì un gruppo di ragazzine vestite in tenuta ginnica, cominciarono a fare tutte pirouette, i soldati che non vedevano queste cose continuamente, e lui a un certo punto si avvicina, si avvicina, si avvicina al punto di passaggio e un soldato gli fa, e i compagni, attento che, guarda che passi all'altra parte, neanche l'avessi detto questo prende, salta di là con tutta la macchina fotografica. Queste ed altre sono le storie da Berlino, le storie di un muro. Speriamo che cada anche qualche altro muro. Badaloni, dammi la mano, neanche se lui, guardate, questo significa avere a che fare con i maestri. E allora noi torniamo ad altri muri, guardali qua. Non ce ne siamo saltato quasi nessuno. Luca Rossi, gli altri muri, le altre vergogne. Sono alti, spessi, fortificati, controllati a vista. I muri nel mondo, a 25 anni dalla caduta di quello di Berlino, ancora dividono, spesso uccidono. C'è quello contestatissimo e dichiarato irregolare dall'ONU, che divide dal 2002 lo Stato di Israele dai territori palestinesi. È fatto di acciaio recuperato dagli scarti di automezzi militari, quello degli Stati Uniti d'America, che corre lungo una parte del confine con il Messico, per scoraggiare l'immigrazione clandestina. Il più vecchio è quello che dal 1953 divide due mondi opposti. La Corea del Sud, ricca e capitalista, dalla Corea del Nord, in pieno regime, con la popolazione allo stremo. Anche l'India, paese economicamente in ascesa, continua a costruire muri. 3.000 chilometri per difendere la caldissima zona del Kashmir, e altri 4.000 per impedire che dal Bangladesh entrino terroristi islamici. Nel vecchio continente non è bastata la storia delle due Germanie. Sono 99 i muri che a Belfast, capitale dell'Irlanda del Nord, separano le comunità cattoliche da quelle protestanti. Non da meno è il muro spagnolo nell'enclave di Ceuta e Melilla, in Marocco, confine tra Europa e Nordafrica. Muri irrazionali in un mondo dove si può raggiungere l'altra parte del pianeta in meno di 20 ore, con un semplice volo di linea. Paradossali, in una società che vuole favorire il libero scambio di merci e di idee. Muri che lasciano intravedere crepe, in attesa che i governi si decidano a trovare vere soluzioni, prima che un altro piccone li butti giù. Piero, non basta sgretolarli questi muri, poi le differenze, le ferite restano. Adesso diciamo che se nell'Olocausto sono stati gli ebrei le vittime di questa follia, adesso rischiano di essere cristiani nel mondo, in Africa, in Asia. C'è questo terribile accanimento, proprio per parlare dell'attualità estrema, quella di oggi, di questi pazzi terroristi dell'Isis, di questo califato che non esiste se non nella mente del loro capo, di questo al-Baghdadi. Quali sono le vittime? Sono i cristiani, costretti a scappare per salvare se stessi. Io credo che, insomma, forse sarebbe il caso di dare un po' retta a quello che dice Papa Francesco. Cerchiamo di sgretolare questi muri e di convivere, perché si può convivere in pace. E noi abbiamo ancora negli occhi le immagini delle mani di Papa Francesco, quando nella sua visita in Medio Oriente, era il 25 maggio, appoggia, proprio quasi a voler sorreggere, forse a voler buttare giù quella vergogna che separa ancora, che ecco qua, guardate questa immagine, è un'immagine che ha fatto il giro del mondo, come se volesse davvero tenere su di sé le ferite che questo muro porta con sé. Saverio, voi siete due persone pazze di Berlino. Noi lo sappiamo perché Vito, Saverio, non ci risparmia, ecco, quando può, dei piccoli suggerimenti, andare a Berlino domenica, dacci un indizio, al di là adesso del Brandeburgo, la Porta, eccetera, qual è un posticino dove non possiamo mancare? Immaginiamo di partire tutti quanti stasera. Beh, è banale però, poi c'è anche una canzone celebre che ce lo ricorda, io andrei da Alexanderplatz. Bisogna farlo. Io andrei lì. Bisogna farlo. La lezione del muro, Piero Badaloni. Aspetta, prima suggerisco anch'io un posticino alla Kartoffenhaus. Kartoffenhaus, già vi fa capire che noi dobbiamo sempre pensare. 700 piatti, tutti quanti, solo a base di patate, compresi dolci. Allora c'è anche la Berlina Repubblic. Signori, questa è la guida Michelin. Piero, la lezione del muro, 25 anni dopo. La lezione del muro è appunto quella di imparare a, cioè è un'illusione quella di riuscire a bloccare la libertà, è un'illusione e lo ha dimostrato questa storia. Speriamo che anche gli altri capiscano che è un'illusione continuare a alzare altri muri. E questo, ricordiamo, è anche la copertina del libro di Piero Badaloni, Tutti pazzi per Berlino, che tra l'altro Saverio ha ottenuto anche a battesimo un paio d'anni fa, chi proprio a TV 2000. Tutto ritorna, tutto ritorna e ritornano anche il nostro Fabio Bolzetta.